mamma andiamo a fare una passeggiata oggi no evi ho troppo lavoro da fare salve c'è nessuno in casa salve posso aiutarla sono sul nuovo vicino del piano di sotto la sua acqua calda funziona ora controllo oh no le dispiace se do un'occhiata certo che no mamma chi è quello il nostro nuovo vicino che carino che è fatto avete un tubo intasato ma l'ho sistemato ora oh grazie mille perché non inviti la mia mamma a uscire evi ma cosa stai dicendo deve scusarla non si preoccupi se le serve qualcosa mi faccia sapere mamma perché hai fatto così prima di tutto non è stato carino e poi se io gli piacessi mi avrebbe invitata da solo ad uscire devo andare a fare la spesa preparerò io un appuntamento per voi due ci sono ha funzionato chi è il vicino dal piano di sotto c'è una perdita dal vostro appartamento entra pure wow ma è tutto allagato qui non so nemmeno io come sia successo do un'occhiata ora sapone una spazzola dello shampoo com'è finita tutta sta roba qui non saprei prendimi il mocio e il secchio ok finito salve mamma avresti dovuto vedere cosa è successo il suo water si era intasato e aveva cominciato a perdere dal soffitto oh mi spiace tanto è già la seconda volta che ci aiuti ti andrebbe una tazza di caffè la accetterei volentieri ha funzionato